stanno lentamente crescendo le piantine di broccolo di torbole da poco seminate sentiamo l'intervista al presidente del comitato valorizzazione che ci anticipa come sarà il possibile raccolto ruggiero bellotti è il presidente del comitato valorizzazione del broccolo di torbole broccoli che sono stati seminati da poco come si preannuncia il raccolto per quest'anno ma penso per quest'anno sarà un buon raccolto perché il tempo l'ha favorito adesso basterebbe che venisse un po d'acqua la prossima settimana un po d'acqua e più avanti che il caldo si mitigasse e verso e verso ottobre e verso novembre che facesse un po più freddo e allora la raccolta del broccolo sarà ottima. Quanti piantini avete seminato quest'anno? Penso che saranno come l'anno scorso dipende migliaia o più migliaia o meno saranno dalle 40.000 ai 45.000 insomma ecco. Quanti agricoltori locali sono coinvolti in questa con questa piantagione? Ultimamente si sono aggiunti alcuni agricoltori e adesso sono cinque agricoltori che fanno proprio il lavoro dell'agricoltore di cui siamo a conoscenza sono cinque. Quando si potrà trovare nei banchi del supermercato presso i negozi di frutta e verdura il broccolo di torbole? I buonorivi diciamo quelli che vengono per primi si possono trovare verso la fine di novembre mentre mentre i medi la maggioranza si trova fra gennaio fra anzi fra dicembre e metà gennaio poi gli ultimi i tardivi si possono trovare anche verso la metà di febbraio oltre non c'è più niente. L'anno scorso per diversi motivi la festa del broccolo di torbole era saltata quest'anno verrà rinnovato questo appuntamento? Sì questo appuntamento quest'anno verrà rinnovato l'anno scorso è saltata anche perché l'annata del broccolo è andata male e l'anno scorso pur essendo stati piantati migliaia di broccoli l'andazzo della stagione come ben sapete è andato male e anche il broccolo ha avuto difficoltà e pertanto abbiamo dovuto rinunciare a fare la manifestazione proprio per la mancanza del broccolo stesso. Invece quest'anno sapete già più o meno quando verrà svolta? Sì la svolgeremo sempre verso la prima quindicina di gennaio perché entro la prima quindicina di gennaio c'è la maturazione migliore del broccolo e ne abbiamo anche in quantità.